Allora, 1977, fine 1977, lo registravo, quindi avevo 20 anni. Ed era Il Cilindro. Il Cilindro di Edoardo, un atto unico con Monica Vitti, Ferruccio De Ceresa, che non c'è più, Pubera Maggio, L'Opare Filippo. C'è un retroscena, visto che il nostro programma si intitola così, c'è un retroscena su Edoardo che non hai mai raccontato, che ti viene in mente ora? Ma che non ho mai raccontato, francamente no, però c'è l'ultimo giorno che abbiamo fatto di prove e lui poi è partito per Salso Maggiore, dove poi purtroppo sarebbe morto. Mentre provavamo, lui faceva fatica ad alzarsi, provavamo a casa sua, faceva fatica ad alzarsi dalla poltrona per insegnarci il ruolo. E disse, poi domani parto, chissà se ci rivediamo. Era un uomo molto coraggioso. Si parla spesso di questa durezza di Edoardo come regista, una durezza necessaria. Ma io penso sempre, dico, bisognerebbe guardare sempre le storie delle persone. Perché Edoardo aveva avuto una storia, aveva fatto l'attore nel dopoguerra, durante la guerra, prima, insomma in un periodo, anni 30, 40, 50, era cresciuto in quegli anni. Erano anni in cui gli attori erano completamente analfabeti. Quindi in qualche modo l'analfabetismo rende un po' più grezzi i rapporti. Aveva a che fare con artisti sicuramente di talento, però più ostici e per tenerli a bada probabilmente ha dovuto avere un polso molto fermo. Poi ha avuto una vita comunque dolorosa per via della perdita di una figlia che lui amava tantissimo. La separazione dai fratelli, insomma, una vita non certo semplice. Questo in un certo senso lui ha creato una scorsa. Lo aveva reso severo, ma era anche capace di grandi dolcezze, di confessioni. Quando c'era una pausa tra un momento di prova e l'altro, lui raccontava degli aneddoti, era affettuoso verso il fratello. Si lasciava andare, insomma. Sì, 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 sì. Tu hai detto che gli attori partenopei hanno tutti una marcia in più, ma il loro talento può essere un limite. Qual è il limite? Il limite è il limite che ha sempre il talento, anche nei calciatori, quando c'è un troppo talento. È importante, quindi è difficile da... È difficile da gestire se non trovi qualcuno che ti ama e che trova il sistema per comunicare con te. Perché, prendiamo l'esempio, non facciamo nel teatro, facciamolo nel calcio. Cassano è per me il più grande calciatore del mondo potenzialmente, però ha un carattere difficile. Se trova la persona giusta, come ha trovato adesso l'allenatore della Sampdoria, riesce a comunicare con lui e a far... A gestire. A gestire, a far fruttare quel talento. Quando hai troppo talento, in qualche modo non ti sforzi di comunicare, di cercare collaborazioni. Pensi di essere indipendente, pensi di essere... Ah, scusa, non indipendente, perché ti basta la tua forza, di essere autonoma. Beh, ma non può significare anche in questo caso una mancanza di umiltà? Ma non è solo per mancanza, perché quelli il talento ce l'hanno, hanno ragione. Il problema è che non basta. Ci vuole la disciplina, ci vuole la concentrazione. La capacità comunicativa. Ci vuole proprio l'applicazione di quel talento. Cioè tu devi capire che talento hai, poi devi sentire dentro di te un progetto, ma tu non è che puoi andare a vanvera, che fai una cosa piuttosto che un'altra perché ti pagano di più o di meno, non sono quelle le cose che contano. Tu devi avere la capacità di capire che quella cosa ti farà crescere, che ti farà crescere, quella cosa ti può incuriosire, allora la fai. Ma se no, il teatro per esempio non lo puoi fare, perché mica si guadagna, però si guadagna pure. Voglio dire questo perché se no c'è sempre questa favola che al teatro non si guadagna. Io sono benestante soprattutto grazie al teatro. Però forse sia anche un caso atipico, in un certo senso. Ma sono atipico anche perché forse... La te è sempre piena, lunga tenuta. Ma non è che li obbligo col fuzile a venire. Non è che ti dico, vado nelle case, o se non viene ti sparo. Quelli vengono perché gli hanno voglia di venire. Per carità, non è quello. Però insomma sei un po' un fenomeno da questo punto di vista. Non è che voglio calcare la mano su gli attributi che ti fanno un po' arrabbiare. Quando ho detto animare da palcoscenico all'inizio, fenomeno. Non è che voglio ritornare a quello. Però nel certo senso sei un po' un'eccezione che conferma forse la regola che a teatro non sempre si riesca a campare con questo lavoro. È un po'... È difficile per gli attori sicuramente. In questo lo stato forse potrebbe aiutare. Tanto teatro, la mia vocazione è il teatro. e ha detto che sono nato con la voglia di teatro e morirò con la voglia di teatro. Vabbè, che mi dico. A voi gli scappa proprio la regola. Quello è contento. Questo ai miei funerali si farà delle grasse risate. Io già mi sto immaginando perché mi esporranno in un teatro. E lui lo dicevo, io lo dicevo. Il signore è morto, Vincenzo. Vincenzo, mi ha detto proprio l'altro ieri. Userò questa scena. Che sono? Che sta la smissione. Ecco Vincenzo, sarebbe quando lo sto pensando. Ma io lo dico perché so che tu non sei scaramantico. No, guardate, gli immana proprio, usò delle corna a pesce. Comunque dicevo, tutto teatro nella tua vita, però anche tanto cinema. Adesso vediamo una piccola selezione. Dunque, Frida, ci sono delle cose nella vita difficili da dire. Però quando sei nella mia situazione, che stai per morire, allora il coraggio di dirle quelle cose, anche se sono imbarazzanti, scabrose, lo trovi. Giusto? E io così ho fatto. L'ho detto a tuo marito anche a costo di fargli del male. Ho fatto bene. Ma non capisco. Che cosa le hai detto? Frida, io prima di morire voglio... Eh? Vorrei... Oh. Eh. Fare una volta. Eh? Guardate scalato, un monte bianco, una rampa di scala abbiamo qua. I gradini sono tanti, capo. Capo, voi siete allenati, mi no? Non allenate. Ecco qua, la cipolletta. È maggiore. Io primo genito. Io primo, le tre frate. È maggiore di grado. Eh? Quanto più grado hai? Più febbre tiene. Se le nabbrano con polmoni. Maggiore, che pericoloso assai. Allora, con che ingegniamo? Cate, calmi, non vi spaventate. Dobbiamo entrare. Eh, bussiamo, bussiamo alla porta. Ah, 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 ma... Che cosa? Non sputare tutta questa sigla che tozzisce e sputano con le mani. Da fumare, da fumare, da fumare. Dobbiamo sentire se c'è qualcuno. Eh? Attenzione, eh. C'è qualcuno? Chi c'è? Ho sentito? Un sibile fruscio. Ho veduto. Eh? Sì, sì, sei capo. Ho sentito qui. Ha ragione un patto di mano. Un sibile, sì, un canno, eh. Un canno. Sto curioso. Dobbiamo sentire se c'è qualcuno al di là della porta. Marcella vuoi leggere il messaggio sul cellulare di papà? E tu sul cellulare di papà? Eh beh, ma qual è il problema? Ma papà me l'ha fatto sempre fare. Prima, papà, adesso sei grande e non si fa. Ma allora non lo posso leggere? Amore, sì e no. Dammo telefonina. E cerca di crescere, idiota. Non provoca che quello che dispette si metta a leggere. Non gli dare soddisfazione. Dammi il cellulare. Ah, lo vedi che tutti abbiamo uno scheletro nell'armadio? Tu padre non ha nessuno scheletro nell'armadio. Non ha niente da nascondere. Oh, Dio. Oh, ma questa è matta. Te l'ho detto, amore. Non è colpa mia. Ma sì che è colpa tua. Ti potevi rifiutare. L'ho provato, te lo giuro. Che dice tuo fratello? Chi? Tua cognata Marina dice che ha trovato l'acquirente per la casa di Ischia.